Inizio, 2, 1, missione e riporto! È un gioco che come meccanica di host della partita ricorda un po' quello su Conan perché noi potremmo ostare, unirci a una partita o farne una privata, ovviamente l'online, quindi l'hosting con gli amici arriva fino a un totale di 16 giocatori, possiamo creare il mondo e possiamo iniziare. Io non l'ho giocato, ho visto l'inizio e ho detto no, questo qua lo registriamo così come viene perché così almeno proviamo insieme di che cosa si tratta. Le ambientazioni mi sono sembrate carine così come anche la grafica e ci troviamo in questo posto e noi abbiamo il nostro personaggino con la possibilità di col mouse andare a scegliere uno degli otto oggetti, con la i abbiamo la possibilità di vedere l'inventario, il mondo, il diario, lo ricordo molto ed è già tradotto in italiano, la creazione, che non credo abbiamo nulla, abbiamo lo zaino appunto come ho visto, il personaggio con i vari parametri di resistenza fisica e magica, gli attributi che vediamo qui sembra essere molto simile a un Conan ma ci sono queste abilità che sono veramente tante, abbiamo dal furtivo, l'attacco spietato, l'attacco in schivata e così via. C'è anche la corrente ascensionale quindi si potrà andare diciamo in volo. Belli riflessi e iniziamo. Vedete in basso a sinistra abbiamo il tempo che possiamo giocare questa demo. Abbiamo la cripta delle ceneri. Comunione con la fiamma perché è tutto basato sul discorso della fiamma. Hai dormito troppo lungo, creatura della fiamma. Il regno di Val di Brace è caduto, consumato dal manto. Ora fiamma ti chiama, trova un posto in questo mondo, in rovina e costruisci un altare della fiamma per creare un riparo dall'oscurità. Va bene, ora usciamo e vedremo questo mondo. Siete curiosi? Anch'io, come voi. Vediamo qual è l'impatto uscendo. Perché questo è un espediente provato per la prima volta da Fallout o dai Elder Scrolls dove si esce e si apre il mondo. Abbiamo la mappa e ci dice di andare lì per la base, una zona pianeggiante. J di Ario è quello che abbiamo visto. Abbiamo le missioni. Va bene, consumata dal manto. Il manto chissà che cos'è. Comunque qua dice primi M. Già fatto, è già fatto perché mi hai preso. Ok, lì sotto c'è la zona. Il mondo è carino. Bisogna vedere per quanto sarà vuoto, se ci saranno NPC. Sì. Non c'è niente di guidato, quindi dobbiamo trovare una via per scendere. Credo. C'è la corsa. Sapete che non è male. Ha alti e bassi, nel senso che non rende tantissimo in lontananza con la foschia, ma sarà anche l'ora del giorno. Possiamo prendere qualcosa? Sì, infatti immaginavo ci fosse già. Vediamo l'illuminazione. E beh, non è mica male. E la torcia ha una durability. Infatti sotto vedete che c'è la barra verde che man mano scende, diventa bianca. La barra bianca scende e diminuisce di uno la durability. Pian piano. Usa un attrezzo di terraformazione e gli esplosivi perché è un percorso delle marcierie. Vediamo anche questo, se è possibile. Sì, è possibile. Prendo le bombe e vediamo subito come funziona. Due. Scusate, fatemi prendere anche questa, l'ultima bomba. Ma la torcia dove l'ha messa? Ah, c'è questa. Ok. Giustamente. Beh, mica male, eh. Mica male. C'è il segreto dietro. Apriamo. Con un calcio abbiamo l'ascia da boia. Bara spazzatrice, prendi. C'è un diario. Leggiamolo. Vieni qui e beviamo. Un'oda alla regina. Un tempo brava. Tre bambini in braccio, la coppa piena fino all'orlo. Pensando a voce alta, lei cantava. I dormirele nella tazza. Va bene anche il rum. Meglio bere troppo piuttosto che far boom. Non si può bere poco, quindi beviamo in compagnia. Meglio bere tanto piuttosto che andare via. E' geniale anche la traduzione. Meglio l'idromile in testa che la testa leggera. Manche finire su una picca, la morte o la galera. Prendi il rum e l'idromile. L'idromile nel boccale. Portalo alla bocca. Bevi tutto. Non fa male. Bene. E il tipo Lidia ha fatto veramente bene, devo dire. Il... Il... L'idromile. Mi si è buggato il personaggio e ho lanciato una bomba e ha distrutto tutto. Adesso ne lancio un'altra e riesco a sbloccarmi. Ok. Carino però che abbiamo demolito tutto. Bellino. E mi ero un po' buggato. Provermi in taleggere. Vabbè, fortunatamente le bombe sono finite. Abbiamo la nostra accetta. Lascia o lascia, accetta o l'accetta. Abbiamo altro da esplorare, ma io voglio andare avanti. Ovviamente c'è ancora qualche problemino, si vede, a livello di grafica. Però, infatti vedete qua anche l'illuminazione. Ma diamogli tempo. E' una demo. Quello che ho già visto già mi piace. Mi ispira. Bisogna vedere tante cose. La fiamma ti permette di resistere nel manto, ma se resterai il suo interno, troppo lungo morirai. Abbandona il manto per ricaricare il tuo tempo massimo nel manto. Cioè, saccheggio. Ah, scusate, devo prendere questa. Perché se no non si vede niente. Eh, mi serviva qua una bomba. Eh, le ho buttate tutte per liberarmi. Premi tab a ganciare i tuoi bersagli. Eccolo là. Il primo nemico, primo combattimento. Prendiamo la nostra ascia. Ok. E diventa una sorta di... Di... Di souls con control. Ok. Si lutano. Spore del manto. Ok. Quindi siamo entrati in questa sorta di manto. E dovremmo avere... Un po' di tempo per poter... Prima di dover uscire. Vabbè. Voglio vedere la distruttibilità. No, questo non... Beh, però, sì. Sì, sì, sì. E cavoli. E prendo anche la legna. No, ho preso uno scudo. Cioè, ho tagliato. Ho rotto un... Un coso? Ho fatto un... Un blocco di legno? Cioè... Scusate, ma la creazione... Ok. Fuoco da campo. Scudo. Ah, ho sbloccato... Non uso lo scudo, ma ho sbloccato con i tronchi di legno. Ok. Vediamo se li prendo. La C ci fa andare in stealth. Che dovrebbe essere 5 lo stealth. Io li prendo, perché comunque sono comodi. Abbiamo sbloccato anche il banco da lavoro. Fatemi un po' rivedere. Di nuovo. Mi servono la corda. E la corda non la posso fare. Potrò fare degli stracci, no? Banco da lavoro. Banco da lavoro. E mi serve sempre la corda. E la corda, probabilmente andando a prendere qualche oggetto, qualche fibra classica, potremmo farla. Allora, qui... Abbiamo l'altare... Il faro del ritorno. Quindi se moriamo, ripartiamo qui. Ok. Se ogni tanto c'è qualche impressione che la grafica sia un concentrato di dettagli che vanno un pochino a sfumare un po' la nitidezza dell'ambiente. Ma è un problema che hanno tanti giochi. Questo non è tradotto. Però, insomma, qui possiamo provare i nostri attacchi e vedere. Devo targettarlo, però. E vedere come ce la caviamo. Cavoli, però... Cavoli, l'ambientazione non è male. Allora, devo andare di là, 70 metri ancora. Non vedo nemici. Avrei bisogno di curarmi anche, ma... È intrigante, eh? Perché, vabbè, di Conan mi è piaciuto, ma non sono un fan dell'ambientazione. Qua bisogna vedere di che tipo di ambientazione stiamo parlando. 10 metri. 9? Posizione raggiunta. Rivendica un posto. Tieni premuto il lancia. Ah, lancia la torcia. Vediamo se prende fuoco l'erba, ma dubito. Beh. Allora, Jay, missioni. Eh, signora, raggiungi, creare l'altare della fiamma. Ok, quindi possiamo creare l'altare della fiamma. Vediamo se abbiamo creazione. Altare della fiamma. Mi servono le pietre. Quindi cerchiamo le pietre. Le pietre si faranno... Oh, si può prendere tutto, si può prendere. Qua c'è una pietra. Fungo rosso. No, ha preso una pietra, no? Credo. Tre pietre, sì. Sì, sì. Ma vediamo se si scavano anche così. No. No, no, no. Sono parte di... Nell'ambientazione non interagibile. Comunque le pietre saranno qua in giro, quindi le cerchiamo. Sperando di non incappare. Vediamo se possiamo abbattere l'albero. Sì. Vediamo. Lo stiamo abbattendo freestyle, cioè muovendoci. E cadono i pezzi di legna. Sì, vai. Vabbè, ci accontentiamo. È il momento. Non voglio tirar troppo la corda. Vediamo se attaccando questi, tecnicamente, dovremmo fare la corda. E saccheggia. Sì, dovrebbe sbloccarsi la corda. Adesso seguendo le logiche di un'altra pietra. Le logiche dei giochi di ruolo. Survival. Però, vabbè. Credo di avere abbastanza roba per fare l'altare della fiamma. Ok. Adesso mi porto lì in zona e facciamo questo altare, così capiamo cosa dobbiamo fare. Vediamo. Allora, altare della fiamma crea e fissa. Ah no, fissa me lo mette in alto. Ok. Abbiamo creato l'altare della fiamma. Lo posiziono. Carino anche il modo di posizionarlo. Col sinistro lo posizioniamo. Rivendica un posto per la tua base. Comunione con la fiamma. Non sei solo, ci sono altri sopravvissuti che sonnecchino nel vicino antica Cryptas. Trova lì così che possano rientrarti in un altro villaggio, perché un cautello è uno di loro e ti chiama nell'evicinanza appena fuori dalla mossa del manto. Ok. L'altare della fiamma possiamo estendere la gamma di edifici, rafforzare la fiamma e spegnere la fiamma. È come il falò di Dark Souls. Eh sì, dobbiamo andare dove? Là? C'è qualcosa? Andiamo là. Tanto, giusto che non avrebbe senso adesso iniziare... Possiamo fare la torcia? Dimmi che possiamo fare anche la corda. Ma scusatemi, ma creazione, corda. È infatti le fibre. Fai la corda, fai la corda, fai la corda. Possiamo fare mattello da costruzione classicissimo, scudo, banco da lavoro. Ci serve ancora una corda. Quindi continuiamo a prendere questa roba. Voglio vedere cosa si può fare col banco da lavoro. Vediamo se possiamo farla adesso. Sì. E facciamo il banco da lavoro. Perfetto. Lo posiziono immediatamente. Se mi ricordo dove ho messo la base. Qui. Sì, non vi farò vedere il martello da costruzione perché è quanto di più già visto possibile. Carriera e ripara. Tenendo premuto invece lo raccolgo. Ok, qua possiamo fare. Martello da costruzione. Blocco di legno. Facciamolo, così vediamo. Rampino, cassa piccola e l'aliante. Addirittura l'aliante con il manto legno. Per lì si fa intelligentissimo questo gioco. Dico. Adesso vediamo se riesco a mettere... Sì, è proprio bruttino da vedere. Ma neanche male. Ne abbiamo fatti 96. Ah, però... Beh, non diventa troppo tediosa almeno la cosa. Perché infatti qua possiamo andare a piazzare le fondamenta. E il problema è che mi domando a sto punto il materiale della costruzione a cosa serve. Lo faccio. A sto punto l'abbiamo fatto. Lo equipaggio. Entri in modalità edificio. Scegli la forma. Materiale. Ah, così ci evita tutte le cose. Bellissimo. O a mano o manualmente. Ah, spettacolo. Non so come ruotarlo. Q. No. Ruota di 90 gradi. Ok, vedete adesso io lo posiziono. Eh, mannaggia, non lo farò mettere. Ok, lo posiziono qui. E mi usa tutti i blocchi. Ah, interessante. Molto interessante. E abbiamo tutte le altre cose che si possono costruire. Più altre forme. Termino. Riprendo la mia cosa. E direi che abbiamo visto abbastanza qui. Sta diventando anche notte. Ma io cerco di raggiungere quei 400 metri là. Ecco, non è bellissimo questo che abbiamo appena visto. Che è un passaggio istantaneamente alla notte. Ma anche qui, tempo di miglioramento. Ne hanno. Perché comunque uscirà in early. Però le premesse sono assolutamente ottime. Perché il mondo è sullo stile, non lo saprei dire nemmeno io. Non è sullo stile di Elden Ring. Perché non è così dark. Mi rievocarsi qualcosa comunque di Elden anche. Qui non può procedere senza un lampino. Cerco invece un percorso attraverso il manto. Il manto è lì sotto. Ah, ok. Ok. Beh, è un lampino. Demolisco tutto e salto di là. Però è un modo giusto per farci andare avanti. Dai, andiamo nel manto. E vediamo che succede. Quindi sappiamo che c'è questa zona di nube. E andiamo dove ci dice di andare. Abbiamo la nostra feed accetta. In alto è il timer. Punto abilità. Nuovo livello. Vedete in alto sulla linea gialla sotto la bussola c'è la... C'è il timer con cui poi noi potremo rischiare la vita. Eh, devo andare di là. Rimanendo però sulla strada. Quindi c'è una scorciatoria ma passando da questo manto. Che devo rimanere qui. Eh, tanto morirò a breve. Non so dove io stia andando. Però dobbiamo andare a questo superstite. Comunque mi sa che la zona dove dobbiamo andare è qui. Non sto benissimo. Ho freddo. Ma hai bisogno anche di un vestito. Sì, qui è diventato più Elden Ring. Non so cosa sia questo ma... Saccheggia. Tronchi di legno, no. Va bene. Continuiamo. Non so dove io stia andando esattamente. Però io dovrei essere su lì. Ah, vuol dire che questo mi dà più tempo? Sì. Sì. E riporto il tempo a 15. Bellino anche questa cosa. Perché secondo me è messo magari con uno, due, tre amici. Non necessariamente tutti e 16, tutti e 15. Però il progettare e il realizzare una spedizione in questa zona. Può essere una black zone. Può essere... Non lo so. Il sottosuolo di Zelda. Può essere tante altre cose. Di zona proibita. Di zona velenosa. È intrigante secondo me. Adesso. Sono sorpreso. Sono sorpreso abbastanza da questo gioco. Comunque usciamo. Vedete che scompare. E non so se riusciremo ad arrivare dove ci dice di andare. Ma volevo almeno finire questa quest prima di chiudere. Qualcos'è? Sottosuolo di Sottosuolo di Sottosuolo di Sottosuolo di Sottosuolo di Sottosuolo di Sottosuolo. Ma lì c'è poco da fare. Il classico inizio dei survival è hai freddo. Ma le fibre sono la cosa più difficile da trovare. Il battito alto. Devo capire perché se è per la stamina che ho esaurito. E per l'ambientazione non sono ancora riuscito a decifrarla. Perché comunque ci sono queste cose molto geometriche. Che mi fanno pensare a un qualcosa più stile arc. Per 100 metri noi andiamo. E vediamo questo sopravvissuto. Sono animali che cercano di scappare. O magari la transizione che abbiamo visto da giorno a notte. Ha un suo motivo dettato da la lore. Lì c'è qualcosa. Vado a andare di là forse. E vorrei arrivare a quel sopravvissuto lì. Giusto per capire se ci sono NPC. Una trappola o? Apre. Prendo i fulmini del pastore. Lo occupaggiamo immediatamente. 6. E colpiamo a distanza? Nessuna munizione. Sì. Coppiamo a distanza sì. Uh. Lei è cattivissimo. E io sono quasi morto. Eh sì. Sono morto. Niente. Non lo scopriremo mai. Perché ripartiamo da qui. Che siamo dal villaggio. Ok. Ragazzi. Questo è molto interessante. È enshroud. Non so il prezzo. Non so quando uscirà in una demo. Sarà disponibile per tutti tra un po'. Fatemi sapere. Io lo trovo intrigante. Ora tendo curioso di vedere i vostri commenti qua sotto. Alla prossima. Ciao ciao. Grazie a tutti.